Attraversare l'Italia da nord a sud, dal Tirreno all'Adriatico, con i 7 container carichi di tecnologia ed esempi concreti per l'efficientamento energetico. È la missione del Roadshow 2018 per l'efficienza energetica degli edifici. Il tour farà tappa in 12 città e coinvolgerà, negli incontri tecnici, nelle tavole rotonde e nelle visite guidate, gli operatori pubblici e privati per promuovere la riqualificazione energetica integrata degli edifici e consentire al pubblico di toccare con mano l'evoluzione di materiali e tecnologie, ma soprattutto di vedere quali sono i reali benefici derivanti dal loro utilizzo. Fare informazione e fare lavoro culturale diventa il punto più importante che noi genereremo con il tour salendo l'Italia a partire dalla fine del mese di aprile, proprio per dare a tutti questo tipo di opportunità in modo tale che si creino nel territorio italiano delle reti per fare questo lavoro. C'è bisogno di un'attività inclusiva dove i soggetti che abbiano competenze siano in grado di dimostrare che l'efficienza energetica non è un concetto astratto. Il punto è far lavorare soggetti, come dicevo prima, competenti e se si guarda agli edifici bisogna anche ripensare la città complessivamente. Parlare degli edifici vuol dire parlare delle parti comuni, cosa che difficilmente entra nel cuore delle persone, anche perché per fare un'attività seria vuol dire mettere mano al portafoglio e quindi bisogna garantire che l'investimento che loro fanno, le singole famiglie, abbia un ritorno. Questo è il punto principale, quindi questa attività deve essere fatta con dei contratti di rendimento energetico garantito. La riqualificazione energetica riduce la spesa in bolletta e se parliamo di riqualificazioni importanti si può arrivare fino a dimezzare il costo della bolletta annuale sia dal punto di vista elettrico e dal punto di vista termico, che vuol dire circa 400-500 euro in meno all'anno per ogni singola abitazione. Chiaramente con questi risparmi si devono finanziare gli investimenti in efficienza energetica. Sta cominciando ad affermarsi sul mercato il concetto che questi risparmi vanno monetizzati anche nel momento in cui si acquistano immobile. Cominciamo a vedere per gli edifici in classe A a più e gli edifici Enzeb, anche se sono ancora pochi, troppo pochi forse nel nostro paese, un incremento apprezzabile del valore al metro quadro rispetto agli edifici tradizionali. Questa deve essere la direzione giusta perché è il mercato a dover valorizzare questo impatto. Gli edifici sono responsabili del 30% delle emissioni nocive e del 40% dei consumi energetici e la riqualificazione energetica offre una grande opportunità per ridurre il livello dei consumi del comparto edilizio ed aiutare a centrare l'obiettivo di decarbonizzazione al 2050. E fa anche risparmiare moltissimo a livello nazionale, visto che noi importiamo circa 30 miliardi di energia sotto forma soprattutto di gas e petrolio dall'estero. Quindi è il classico caso in cui si prendono più piccioni con una fava, veramente parecchi, anche perché abbiamo dimenticato la creazione di posti di lavoro. Cioè efficientare un edificio non è una cosa che viene fatta da robot, non è un'attività virtuale che viene fatta dai computer, ma ci vogliono ancora manodopera, ci vogliono tecnici qualificati, ci vuole ricerca, sviluppo, nuovi prodotti, dalle finestre agli isolanti, alle pompe di calore. C'è una filiera intera dietro che può creare centinaia di miei posti di lavoro. Abbiamo 17 milioni di edifici da sistemare perché sono 17 milioni costruiti prima del 1976, quindi prima della prima legge sul risparmio energetico. Insomma lo sappiamo tutti, abbiamo un patrimonio energetico che è un colabrodo, consuma il 40% dell'energia totale italiana e ne spreca il 60%. Allora capite che sprecare il 60% di una forma di energia chiaramente è insostenibile. Il lavoro che abbiamo cominciato a fare come NEA un anno e mezzo fa è stato quello di cominciare a lavorare un po' di cesello per andare a vedere quali erano le ragioni concrete per cui le cose non si facevano e di individuare le soluzioni per cui si potessero fare. Credo che adesso ci siamo arrivati, c'è stato un grande contributo, devo dire, del Vice Ministro Morando del Ministero dell'Economia che nelle varie leggi di bilancio, nelle varie manovre ci ha aiutato molto perché ha capito la valenza e quindi adesso io credo che abbiamo tutti gli strumenti. Ci manca una circolare dell'Agenzia delle Entrate che cerchiamo di far modificare nel prossimo mese. In modo tale che a quel punto lì davvero si passa dal che bella che è l'efficienza energetica al farne di più. Tanto già si è fatto ma ancora oggi si sente la necessità di mettere in campo norme e parametri per garantire il ritorno dell'investimento privato che con l'apporto degli eco bonus potrà garantire la deep renovation di milioni di edifici privati e pubblici in Italia. Il cittadino che oggi potesse risparmiare su oblazioni che sono onerose perché comunque è costretto ed è giusto che questo patrimonio nostro immobiliare sia in linea con quello che è stato licenziato, edificato e accadastato, se potesse risparmiare lì, quei soldi secondo me li metterebbe con molta voglia nella riqualificazione del proprio immobile perché riqualificare il proprio immobile significa comunque risparmiare e non solo questo, essere utili all'ambiente, a noi stessi, al benessere di ogni cittadino. Quindi noi siamo chiaramente positivi su questo percorso, però bisogna indubbiamente considerando lo stato oggi del patrimonio immobiliare italiano che per l'80% è stato edificato prima del 91 e per il 65% prima del 70, consideri questo, i costi per riqualificare il mercato immobiliare, diciamo il patrimonio immobiliare, sono molto onerosi e il cittadino in questo va aiutato perché tanto quei risparmi che si avranno non saranno solo a favore del cittadino, ma saranno a favore della comunità, saranno a favore del governo stesso, saranno a favore dello Stato che avrà un risparmio energetico anche in quello che ci costa acquistare energia e produrla.